Un filmino delle vacanze alternativo. Così è cominciato quello che è diventato un delirio cinematografico. Attori improvvisati, scene riprese con un cellulare, stati alterati di coscienza, il tutto coronato dalla solitaria magia di un piccolo paesino abbandonato di montagna. Fui. Certo, quello che andremo a vedere potrà sembrare disturbante e ridicolo, ma è una critica che solo uno spettatore superficiale tirerebbe fuori. Sì, perché lo spettatore attento e acuto vedrebbe in tutto ciò quello che è l'intento più spontaneo e genuino di un gruppo di ragazzi. Divertirsi e far divertire. Dopotutto non è una forma d'arte e quindi di bellezza. Il voler fare in maniera semplice e ironica una pellicola in stile d'arri argento. Il voler dare sfogo alla propria creatività in maniera psichedelica. Ma il riverente concorderete con me che è meglio che stare a perdere tempo facendo filmini kitsch e autoscatti con la bocca a culo di gallina. E adesso mettetevi comodi. Spogliate la mente dai vostri pensieri. Spogliatevi anche se volete. Uscite dalla vostra giornata e benvenuti nella giungla di neve dove il dio scimmia regna incontrastato. Nella giungla c'è un albero molto speciale, l'albero che d'ondola. E ci sono delle piccole scimmiette molto audaci che amano arrampicarsi tutte insieme. Ma nella confusione che creano spesso qualcuno cade. Quindi bisogna fare attenzione a non far cadere gli scimmietti. scimmietti. Perché è tutto questo? benvenuti ragazzi. Questa è la cittina sperduta di Pum. scimmietti. 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 e me lo so ah she loved it 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 ho stato uno dei miei musici di occhi da viaggio musici si chiama monkey musici ragazzi sapete come si calmano i vegetariani si sedano ahahahahah ragazzi ma cos'è quella musici 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 ma è sparito cosa cosa mi sa che sei un po' avvicinato musici 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 music 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 comunque ragazzi io non lo so ma oggi ho sentito dei rumori strani nel bosco come di scimmia lo smetti tutti sanno che non ci sono scimmie in montagna e tu cosa ne sai precisamente sulle scimmie? più di quanto vorrei dove cazzo è finito Milos? state cercando Milos oh raga andate a cercare Milos caspa sai che dagli una mano anche tu dai che odrio non sei preoccupato per Milos non sei preoccupato per Milos 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 dove stai Milos? dove stai Milos? cosa è questo? vieni ho trovato una traccia ho trovato una traccia Cazzo è morto! Milos è morto dunque! Partitello? Barre, ma cos'hai? Ti vedo strano! Tutto a posto! Non lo so, non mi ricordo! Ho un po' di nausa! Non lo so! Perché non ci diamo tutti una calmata? Sei un po' di te Barre! Ma cosa c'era qui dentro? Cazzo è morto! Dio Alfio! Dio delle scimmie! Ora, grazie a te, potrò compiere l'estremo sacrificio! Ora vai Enes, compri il sacrificio per rinascere la mia proteine attraverso il tuo seme ed il corpo di Barre! Cazzo è morto! Sono di te laantinga! Cazzo è morto! Cazzo è morto! Cazzo è morto! Alfred 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 Alfred, io ti osservo da quando tu sei nato Il tuo compito ora è salvare l'umanità Vieni a me, Alfred Alfred, Alfred Devi trovare la spada per salvare l'umanità Devi trovarla, la spada Devi trovare la spada Segui i cani, Alfred Segui i cani Ragazzi, ragazzi, aiutatemi Alfred, dove siamo? Ma dove cazzo siamo? Cosa è successo? Io non vedo niente, Alfred Dove siamo? Benets! Aiuto! Benets! Che cazzo pensi di fare? Che cazzo è successo, ragazzi? Slegaci, dove siamo? Forza! Andiamo a ammazzarlo prima che sia troppo tardi Dobbiamo trovare questa spada dunque Dividiamoci Sarà più facile La spada! Mi ucciderò, menets! Bazzardo! Bazzardo! Questa storia delle scipie deve finire Io ti ucciderò Io ti ucciderò Chi uccide l'elettoriver? Che da fare nulla? Giochi! Ragazzi, ho trovato una spada per uccidere il menets! Mazzardo! Tieni madre! Dai male! Traviggio! Stiamo nel dio uccidio! Abbiamo ucciso il tuo corpo! Aaaaahhhh! Potete uccidere me e il mio corpo ma non ucciderete il demone delle scimmie e il suo potere! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti